Nella sua edicola in via Matteo degli Organi a Galciana vendeva insieme a riviste figurine dosi di hashish che confezionava al momento su richiesta. L'uomo, un quarantenne di barberino del Mugello con precedenti specifici, è stato arrestato dai carabinieri di Iolo e da quelli della compagnia di intervento operativo di Firenze, il cui cane, Batman, ha fiutato la droga. Due etti e mezzo di hashish suddivisi in tre panetti con tutto l'occorrente per il confezionamento sistemato in bella vista su una scrivania sul retro dell'edicola. Altra droga, 5 grammi di cocaina da cui si sarebbero ricavati almeno 20 dosi, sono state trovate sequestrate nell'abitazione dell'edicolante insieme a 4.400 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il quarantenne è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Stamani l'uomo è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato che ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Il processo per direttissima è stato aggiornato a metà aprile.